Che le rondini messaggere della primavera possano tornare a volare numerose come un tempo, salve dalla minaccia dell'uomo. Un contributo salvifico arriverà dalla piccola antologia della rondine. Come? Sarebbe stato più chiaro prendendo parte alla presentazione del volumetto in uno degli spazi che profumano di secoli e di storia del Palazzo del Prete. L'antologia, edita da Bastoggi Libri, ideata e curata da Maria Stellarossi, raccoglie i racconti di 30 scrittori, poeti, ambientalisti, artisti, uniti nel segno della rondine. Il ricavato della vendita, e qui sta il contributo concreto alla causa, sarà devoluta alla Lipu, associazione dedita alla salvaguardia degli uccelli e dell'ambiente. Il filo conduttore è la rondine e in particolare il suo declino. Purtroppo da decenni è un uccello in via di estinzione. Volevo fare qualcosa di concreto, di pratico, proprio di vero, di autentico, dedicato e pensato per le rondine e per la loro salvezza, perché tutti noi possiamo contribuire, ognuno di noi, alla sua salvezza. È un suo valore letterario, perché per esempio c'è lo scrittore Lorenzo Marone, che è tradotto in 17 paesi nel mondo. C'è il racconto scritto da Giuseppe Cerasa, che è il direttore delle guide della Repubblica. C'è il racconto, ad esempio, di Cinzia Toto, che è redattrice di Gardenia. La copertina è di un'artista americana, Sara Siltala, che ha voluto partecipare a questa mia ideazione, dando il suo benestare a che tutta questa opera fosse dedicata proprio a questo libro. E a proposito di contributi, da rimarcare anche quello della padrona di casa, Doroti Delprete, ospite dell'iniziativa. Io sono sempre molto contenta di promuovere eventi culturali. E poi, in particolare, io amo molto le rondine. Quindi, quando si è parlato delle rondine, abbiamo anche delle rondine che tornano ogni anno e fanno il nido qua. E io le aspetto sempre. E quindi sono felice che vengano le persone, che si parla di cultura nel centro storico di Venafora. La curiosità è tanta, quindi la domanda inevitabile. Da dove nasce questo amore? Da lontano, da lontanissimo. È il primo ricordo mio da bambina. Io penso di aver avuto 4-5 anni e la prima cosa che ricordo è un grande volo di rondine che aveva oscurato addirittura il cielo. Tanto era fitto. Per cui io avevo rivolto gli occhi in alto per vederlo. E quel volo mi è rimasto dentro. Per cui ho una grande nostalgia e malinconia nel vedere che adesso, ad esempio, nel mio piccolo paese io vivo a Cerro Volturno, però in un rione di Cerro Volturno ne sono tornati appena 5. Erano centinaia quelle che arrivavano. Allora fermiamo questo declino e facciamo in modo che tornino ancora.